e salve a tutti amici cooperiani e bentornati in questo nuovissimo video e come avete visto dal titolo si sono diventato partner con quelli di deadmatter ciò significa che è come se fosse un emissario di tarkov con meno cose che deve fare però più o meno come un emissario quindi praticamente ci danno le chiavi se chiediamo chiavi per giveaway ce le danno quindi aspettate qualche giveaway abbiamo un nostro discord privato se noi pubblichiamo un video del gioco loro ci pubblicano insomma ci spammano da tutte le loro parti a quanto pare sono l'unico italiano lì dentro per adesso forse sono finiti i partner che devono entrare non lo so però credo di essere l'unico quello che state guardando adesso è un trailer che hanno messo forse un mesetto fa circa e questo è più o meno quello che ci sarà nell'alpha noi giocheremo inizieremo a giocare a novembre noi tutti i partner più o meno l'uscita su steam per quelli che hanno dato insomma per il contributo insomma ai baker un mesetto dopo hanno detto più o meno quindi noi testeremo per un mese con tutte le nostre cose private causeremo bug cose per cercare di migliorare il tutto ancora di più prima dell'uscita dell'irri access e niente ora qui appaiono un po' di cosette comunque mi fa piacere perché io ho fatto una cosa ho fatto la richiesta che se non mi sbaglio usciva qualche link qua non ricordo però comunque io ho fatto richieste in una mail c'era una mail in cui noi una mail anzi un questionario un sito con un questionario dove dovevamo mettere le cose i link bla 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 e niente mi hanno accettato e sono contento perché almeno qualcun altro mi ha cacato quelli di Tarkov no giuramente me lo sarei meritato più di Tarkov che di questo però meglio di niente secondo me sarà un bel gioco cazzuto anche da quello che stiamo vedendo perché quello che ci fanno vedere è quello che ci sarà si potrà già costruire, fare cose, andare in macchina, combattere, tutto solo è da migliorare quindi niente io vi ringrazio per la visione spero che anche voi faccia piacere noi ci vediamo nel prossimo video e grazie di nuovo alla prossima ciao ciao